Buongiorno a tutti, mi dovete scontare, quindi vi farà una scontra per tutti i miei atleti, sempre grazie a Trenservis, per il fatto di stare in due giorni, e poi a me... Hai trovato quello che tiene camera? Olè Marco! Grazie a tutti. Grazie a tutti! Sono partito come al solito troppo forte, alla prima salitella arrancavo come al solito, poi ho trovato il ritmo giusto, sono andato con il mio passo abbastanza bene, cambio regolare, bello cammino, poi dopo la frazione di corsa, come dicevo prima, il secondo giro mi è caduta la catena e ho perso un po' di posizioni, però nel complesso è andato bene. Sono contento, sono contento. Vale Marco dai! Grazie Marco! Vai Aldo! Vale Marco dai! Fai la dichiarazione dello sconfitto. No non è sconfitto, io dall'inizio ho detto che ero scompato oggi, sono caduto, sono stato male, per due settimane non mi sono allenato e quindi di conseguenza la mia forma non era al topo. La sfida c'era un mese fa, ma poi dopo che io sono caduto e mi sono spaccato e quindi... Dichiarazione di Achille, pregara, che dichiarazione, che oggi però schifo con questa salita di merda, poi io non ci allena bene con queste salite. Però l'hanno fatto di associo anch'io. In particolare sulla prestazione di Paolo? No, beh, sono contenta che è riuscita a comprenderla. Vivo, vivo. Esatto, senza affascinare, stanno bene. Vedete, andate a vedere il sito. Si porta a casa ancora i soldi, se no... Vai. Adesso, poi sei caduto. Posso salutare Aldo? No, sono caduto, mi sono fatto malissimo. Ho stricciato tutto qua, ho spaccato la bici, alla fine ho dovuto portare la bici in braccio. Comunque pensa che io l'ho raccolto, l'ho portato all'ospedale e se no l'ho avuto la via. Grazie mille Aldo. Ti ho bacciato la via più oscura, dove l'ombra si veste di pizzo.